Come va? Come stai anzi? Mi porti fortuna eh? L'ultima volta abbiamo parlato di sentimenti e comunque le cose che abbiamo detto sono state di buon auspicio, perché comunque sono felicemente fidanzata e quindi sto bene. No, no, con chi? Non si conosce, però sto bene insomma, quindi mi ha portato fortuna. Ma quest'estate pensi di andare a qualche parte con questa persona speciale? Sì, devo lavorare molto, però comunque faremo un viaggio carino sia all'estero, anche per lavoro però, uniamo l'utile al dilettevole tutti e due e dobbiamo fare una cosa di lavoro insieme. Si può dire almeno se è più vecchio, più giovane? No, 36 anni, giovane. Beh, è giovane. Sì, che cosa è che ti è piaciuto di lui? Perché è una persona molto semplice, lavora tanto, è semplice e mi piace. Prima o poi lo sai che scopriremo chi è? Ma certo, qualcuno già lo sa, però vediamo se siete bravi. No, comunque sono una persona semplice, normale, non è una persona conosciuta. Un bacio grande ai Gossip News che sono la nostra, sto sempre, comunque clicco sempre sul vostro sito, quindi mi tengo sempre informata. Ciao! Ciao!